Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Nikon Z6, prima versione di Z6, sempre 24 megapixel, sensore stabilizzato, mirrorless come potete vedere, macchina che ha un bel vissuto e in quanto tale ha bisogno di cambiare il circuito che governa il pulsante di scatto, perché a causa di un urto barra compressione si è danneggiato, macchina come dicevo prima ha un bel vissuto, il nostro cliente insomma ne ha fatto un grande uso, è molto soddisfatto e quindi provvederemo a sostituire il circuito, poi a fare la pulizia e le varie tarature e controlli. Prima di spostarci sul tavolo di lavoro, vi volevo far vedere cosa andremo a sostituire, ovviamente ricambio ordinato specificatamente per il cliente dalla casa madre, perché chiaramente non è una riparazione molto frequente e questo è quello, l'assemblaggio che andremo a sostituire. Andiamo a vedere cosa succede, lo smontaggio e tutte le fasi di riparazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.